Ciao cocioli Ciao anime belle Come state? Tutto bene? Siamo ormai sotto a Natale e ho deciso di registrare qui in questa stanza e richiamo un po' il tema natalizie anche se qui di solito c'è più rumore esterno che potete sentire però cercherò di ottimizzare al meglio In questo video volevo coccolarvi in questo calore natalizio, in questa atmosfera natalizia che c'è attorno a noi in questo periodo Perciò godetevi le mie carezze Tante coccole Tante coccole Tante coccole Tante tante coccole Tante coccole E poi questo movimento Dormi Slippi E noi Slippi 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 e il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no dormi dormi no Slippi Slippi lì 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 Waaaa Fiuu lì tranquilli 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 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no dorme dormi 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 sleep e normal to blue to blue to positive to positive BLE 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 lì Sì, 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 sì Sì, sì, sì ooooh come itch are you ? mario 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.